No, io penso che noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi. Con gli altri risultati verranno, però dobbiamo concentrarsi su quello che dobbiamo fare noi in campo. La dimostrazione è che noi siamo ancora vivi, quindi abbiamo creato tantissime occasioni. Quindi i ragazzi hanno fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista di temperamento, di carattere. Quindi non si può dire niente, il risultato poteva essere migliore. Però continuiamo, mancano ancora due partite e noi siamo carichi e concentrati per queste due partite. Lavorando in settimana, è normale che poi ci sono anche gli avversari. Cerchiamo di dare soluzioni diverse agli attaccanti. È un periodo così, oggi abbiamo provato, abbiamo creato e non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo creato tanto, poi è difficile dire appunti così. Noi abbiamo creato tanto e per un pizzico di centimetri non siamo riusciti a fare gol. Quindi poi è normale che nel calcio vince chi fa gol.